Si parlava del piano di dimensionamento scolastico, tra l'altro un piano già rinviato qualche settimana fa in cui io ho presentato un emendamento per istituire il biegno dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro a Fano e anche perché avevo letto le dichiarazioni del Sindaco Seri e del Sindaco Ricci che si dicevano favorevoli a questo. In realtà il mio emendamento è stato respinto, respinto per poco perché ha avuto 13 voti a favore e 17 contro. Però è stato respinto dalla maggioranza di centro-sinistra con delle motivazioni eclatanti dal mio punto di vista perché il Presidente della Prima Commissione, che doveva dare il parere sugli emendamenti, ha detto che il parere era contrario perché non c'era un documento, una lettera, un'email del Comune di Fano che avvallasse questa scelta. Quindi loro in assenza di un qualsiasi pronunciamento da parte degli enti interessati avrebbero respinto l'emendamento e così è stato. Mi sembra una cosa incredibile perché gli abbiamo sentiti i sindaci pronunciarsi favorevolmente, il problema è che alle parole non sono seguiti i fatti perché bastava una lettera, ripeto, e a settembre si sarebbe potuto avere il bienio del Cecchi a Fano. Questo non è avvenuto e parole al vento oserei dire.